Ok, è arrivato il momento del Combino, che è un laboratorio storico della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, che vedrà una formazione nuova, inedita, che è un quintetto che vede Simone Melchionna al pianoforte, Alberto Baldini al tenore, al sax tenore, poi un musicista storico del Combino, Pietro Franchini, Giorgio Granato al suo esordio al contrabbasso e Francesco Altarocca alla batteria. Suoneranno due brani, sono due brani molto noti, non sono degli standard, sono brani scritti da due tra i musicisti più importanti nella storia del jazz, il primo è Dave Brabeck e suoneranno Your Own Sweet Way per proseguire con un brano di Shorter dal Chiedo lo yes or no. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.